Ciao ragazzi e benvenuti in questo vloggino molto speciale perché proprio da questa angolazione inizieremo un bel po' di episodi sulla domotica e parleremo effettivamente perché mi sono convinto dopo due anni a incominciare a far diventare la mia casa praticamente completamente domotica infatti abbiamo iniziato a comprare lampadine, prese intelligenti e addirittura interruttori son off quindi siamo pronti ufficialmente a portarvi un po' di episodi e andremo a recensire insieme a voi diversi prodotti e non solo andremo a vederli come accoppiarli, vedere le funzioni che hanno e molto altro ancora quindi vi aspetto alle ore 15 sempre sul nostro canale youtube con il primo episodio riguardante i dispositivi domotici e come il primo episodio avevo un modulo veramente molto speciale però ci vediamo alle ore 15 ciao ragazzi buona giornata